Ciao a tutti ragazzi, da Magicolo. Siete stufi ogni volta di andare su YouTube per cercare video? Allora, questa è l'app che fa giusto per voi. Se avete un browser Google Chrome o Firefox, allora scaricate al link che trovate in descrizione del video, questa app gratis. Riceverete le notifiche dei miei migliori video YouTube, e potrete cercare i vostri video preferiti, da qualunque pagina web in cui vi trovate. Vi ricordo che è tutto gratis e potrete disinstallarlo con un clic veloce. Arrivederci e statemi bene. E sogni magicolosi. Grazie a tutti.